No, nel senso che se dopo ciò non c'è voglia che mi fatti gli atti tuoi un attimo, cioè... No, no, io ti scotto le tessere, guarda, e io prima volevo farmi una pere. Io non me la farei più sempre. No, no, io sì. Ok. Certo, i paleocristiani credevano nelle cose molto più semplici, molto più semplici, cioè la pietà filiale, la fratellanza, tutti quanti siamo uguali. E quello aveva già ancora presenza. Sono molto più paleocristiano io che... Pensa che finiamo tutti così, dentro questi angolini di merda. E ci fanno pagare, pensando che si è dignito.